Mark Marquez ha vinto il Gran Premio d'Australia, sedicesimo appuntamento del Moto Mondiale 2015. Sulla vista di Philip Aisland, gara dalle mille emozioni con Lorenzo partito in pole, sembrava dovesse lasciare il vuoto. Invece si verifica quel che non t'aspetti. Valentino Rossi, partito nelle retrovie, dà luogo a una delle sue solite rimonte spettacolari, ingaggiando un bel duello con Andrea Iannone, che se non fosse stato per un piccione avrebbe mantenuto la prima posizione ad inizio gara. Ultimo giro adrenalinico con Marquez che supera Lorenzo la terz'ultima curva, mentre Iannone consolida il terzo posto. Rossi chiude quarto, Lorenzo si mangia le mani per la beppa atroce. Con questo risultato nel Mondiale Piloti, il campione di Tavulia ha 13 punti di vantaggio sul Maiorchino. Decisive, a meno di sorprese, gli ultimi due appuntamenti, il 25 ottobre in Malesia e l'8 novembre a Valencia.